L'Italia raccomanda l'uso del vaccino AstraZeneca solo per chi ha più di 60 anni. La decisione dopo il giudizio positivo sul rapporto rischi-benefici da parte dell'Agenzia Europea del Farmaco. Continuano le proteste di commercianti e ristoratori per riprendere le loro attività. Oggi in piazza la rete delle partite IVE dei lavoratori autonomi. Il ministro del Turismo Garavaglia annuncia la programmazione delle riaperture. Si celebra oggi la giornata della memoria in onore dei 6 milioni di ebrei esterminati dal nazismo. Le manifestazioni sono iniziate ieri sera al tramonto allo Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto di Gerusalemme, aperto quest'anno al pubblico. Un cordiale buongiorno dal TG2000 all'ora in primo piano la questione vaccini. Andiamo subito al lab vaccinale della stazione Termini di Roma dove viene somministrato il vaccino AstraZeneca. Per sapere come sta andando avanti la campagna, in diretta c'è Luigi Ferraiola. A te Luigi. Buongiorno, buongiorno da piazza dei 500. Siamo davanti al centro vaccinale di Termini, davanti alla stazione Termini, gestito dalla Croce Rossa italiana. Le vaccinazioni con AstraZeneca stanno andando avanti a pieno ritmo perché anche questa è la fascia d'età perfetta, quella consigliata dal comitato tecnico scientifico dai 60 ai 79 anni. Quindi non ci sono praticamente rallentamenti. Se capita qualche categoria ammessa più giovane, qualche categoria ammessa alla vaccinazione più giovane, ovviamente c'è un colloquio medico prima per indicare, per verificare eventuali controindicazioni, ma comunque si lascia poi la scelta definitiva anche sempre al cittadino. Abbiamo con noi, l'abbiamo praticamente sequestrato alla sala osservazione dove ci si rimane fermi per 15 minuti al termine della inoculazione del vaccino, il dottor Luigi Avagliano, agronomo, e gli chiediamo com'è andata. Direi molto bene, è stata una cosa semplice, rapida, indolore perché non si è sentito nulla. L'attesa è stata molto breve, ben organizzata, un servizio efficiente, molto soddisfacente. Lei aveva qualche timore prima di avvicinarsi, prima di effettuare veramente il vaccino? Direi di no, anche perché in famiglia già due persone hanno fatto lo stesso vaccino e comunque i termini della questione sono abbastanza semplici. C'è un rischio, come in tutte le attività legate alla medicina, vaccini piuttosto che altre somministrazioni, un rischio calcolato abbastanza basso da affrontare assolutamente perché è più pericoloso non vaccinarsi oggi, nell'interesse proprio e nella collettività. Quindi mi auguro che la fila sia molto lunga nei prossimi giorni, in modo che ci sia ancora più a flusso e che sia carente la dose, non siano carenti i cittadini che si vaccinano. Un'ultima cosa, non le ho chiesto quanti anni ha, giusto per curiosità? Io compio 64 anni a settembre. Va bene, auguri allora, dal centro vaccinale di Termini è tutto a posto, la linea ritorna allo studio. Allora, continuiamo a parlare della questione vaccini, anche perché la rimodulazione della campagna sarà affrontata nel contro di oggi pomeriggio tra governo e regione, in cui si parlerà anche dei sostegni alle attività economiche. Oggi infatti a protestare in piazza ci sono gli autonomi e la rete delle partite. IVE. Sentiamo Augusto Cantelmi. Di protesta in protesta, questa volta partite IVE, ristoratori, titolari di bar, artigiani, si danno appuntamento a Piazza del Popolo. Una manifestazione assolutamente pacifica per rivendicare il diritto di tornare a lavorare. Siamo all'esasperazione totale perché non arrivano i sussidi, sono molto piccoli, sono molto pochi. Diamo che la nostra dignità non venga calpestata, chiediamo di nuovo la nostra libertà, di riapertura in sicurezza. Abbiamo pensato anche al loro ristoro, perché noi per davvero pensiamo al ristoro delle persone. Quindi stiamo andando avanti con i nostri risparmi, ma i nostri risparmi non sono più infiniti ovviamente. Beh, io ho avuto la fortuna di imparare da mio nonno a fare il pane e questo è stato uno dei vantaggi più grandi che ho avuto. Il problema però è che con il solo pane non si va avanti. La mia azienda è strutturata per fare ristorazione. Che chiediamo che ce lo permettano di avere queste soddisfazioni, cioè di lavorare, di riempire in sicurezza e ritornare un po' alla normalità. E di riaperture si discuterà nel pomeriggio, sia nell'incontro Stato-Regioni, sia nel vertice a Palazzo Chigi con Draghi e rappresentanti di governatori e sindaci. Intanto si ipotizza la data del 2 giugno per la riapertura del paese. A proporla il ministro del turismo Garavaglia è la nostra festa nazionale. Potrebbe essere una data perfetta. E a proposito di contestazioni, oggi ci sarà la seconda estrazione della lotteria degli scontrini. Questo mese i tagliandi sono oltre 685 milioni, il 33% in più rispetto al mese scorso. In palio ci sono 10 premi da 100 mila euro per i clienti e 10 premi da 20 mila euro per i commercianti. Una misura nel mirino delle opposizioni. Ribocciata la mozione di Fratelli d'Italia che voleva destinare ai ristori i 5 miliardi del cashback. E dopo le proteste di commercianti, ristoratori e ambulanti si ragiona su aiuti e riaperture. Intanto il governatore della Banca d'Italia, Visco, chiede cautela sulle misure di sostegno all'economia. È il servizio di Leonardo Possati. La scelta è di quelle più difficili da prendere perché decidere quando riaprire non è semplice. Se si anticipa, si rischia di far ripartire il contagio e non dare un senso all'enorme sforzo per vaccinare tutta la popolazione. D'altro canto, se si rinvia troppo, commercianti, ristoratori e ambulanti rischiano di non poter davvero più aprire le proprie attività. Per questo il governo da settimane guarda avanti e oltre a spingere sulle vaccinazioni, lavora a nuove misure per sostenere le imprese, le famiglie e le partite IVA. Del resto, ieri pomeriggio, Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, ha sottolineato l'importanza di continuare sulla linea di cospicui aiuti all'economia. Anche al di là di un'eventuale prossima riapertura in primavera inoltrata, le perdite infatti sono state tali da imporre un accompagnamento sistematico. Servono dunque soldi e per questo il ministro dell'economia Daniele Franco ha annunciato un nuovo decreto sostegni per il quale è previsto l'ennesimo scostamento di bilancio, una trentina di miliardi, ovvero soldi a debito, per mettere sul tavolo sostegni ad hoc. Servono aiuti che siano mirati alla ripresa delle attività ma soprattutto legati alle perdite. Da più parti arriva poi la richiesta al governo di prorogare le scadenze fiscali rinviate dal 2020. Andiamo all'estero, si aggrava e mi ammari il bilancio dei morti dall'inizio delle proteste antigolpe che ha sfiorato quota 600. Ieri le vittime sono state 12. Il governo britannico ha denunciato le azioni di bullismo della giunta birmana dopo l'occupazione dell'ambasciata birmana a Londra e l'estromissione dell'ambasciatore che si era schierato contro il golpe militare. Sesta notte di disordini in Irlanda del Nord, un bus dirottato incendiato a Belfast, ancora tensioni fra nazionalisti e unionisti nella capitale con lanci di pietre e bottiglie Molotov. Secondo la polizia gli scontri sono stati organizzati da elementi criminali. I primi ministri irlandesi e britannico chiedono di fermare le violenze e scegliere la via del dialogo. Ora in Israele si celebra oggi la giornata della memoria in onore dei 6 milioni di ebrei esterminati dal nazismo. Ci riferisce alla nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Sono le 10 di mattina quando le sirene iniziano a suonare. Per due minuti un paese intero si ferma in silenzio. Israele ricorda i 6 milioni di ebrei esterminati nell'olocausto perché oggi, secondo il calendario lunare ebraico, è la giornata della memoria. Le celebrazioni sono iniziate ieri sera al tramonto, l'Oyad Vashem, il memoriale dell'olocausto di Gerusalemme, aperto quest'anno al pubblico. Il presidente israeliano Rivlin è accanto a Benjamin Netanyahu. Il premier è incaricato ancora una volta di cercare di dare un governo a un paese che rischia di tornare per la quinta volta alle urne. Un paese diviso su tante questioni interne, ma unito sui temi della sicurezza e della politica estera, a partire dal nemico iraniano. Non sottoscriveremo mai un accordo che permette di avere un arsenale atomico a un paese che vuole distruggerci, ha detto ieri sera Netanyahu, riferendosi alla ripresa e i negoziati in corso in questi giorni a Vienna. Impediremo in ogni modo all'Iran di portare a termine il suo piano. Tra gli avvertimenti due giorni fa c'è stato l'attacco al cargo iraniano nel Mar Rosso. Stanotte l'aviazione israeliana avrebbe invece colpito un deposito di armi iraniane a Damasco. Accanto a Israele contro i guardiani della rivoluzione ci sono i paesi del Golfo che hanno firmato gli accordi di Abramo. Stasera Dubai ospiterà la sua prima commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Eccoci tornati in Italia per fare il punto sui vaccini. Raccomandato l'uso del vaccino AstraZeneca solo perché ha più di 60 anni, come abbiamo sentito, una decisione che si ripercuote sul piano vaccinale. Allora facciamo il punto della situazione con Federico Plotti. Approvato per tutte le persone con più di 18 anni ma consigliato soprattutto agli over 60. La circolare con cui il Ministero della Salute ha aggiornato le raccomandazioni sul vaccino prodotto da AstraZeneca accogliendo le avvertenze del CTS e del Consiglio Superiore di Sanità è già stata inviata alle regioni. La posizione che è stata di fatto decisa dal Ministro dopo un confronto che ha coinvolto oltre a noi tre anche altre figure istituzionali è stato quello di raccomandare un uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età. Il siero della casa farmaceutica anglosvedese è sicuro e l'EMA ha lasciato libertà ai singoli stati dell'Unione di decidere come procedere. E come ha scelto di fare anche la Germania, l'Italia ha deciso di somministrarlo principalmente alle persone più avanti con l'età. Tra queste, viste i dati a disposizione, il rischio di reazioni avverse di tipo tromboemolico è pressoché inesistente. Diverso invece per gli under 60, fascia di età in cui i casi avversi sono di più ma nell'ordine di uno ogni 300.000. Chi ha fatto già la prima dose potrà tranquillamente completare il ciclo ma la questione del siero di AstraZeneca, che a questo punto sarà destinato quasi interamente agli ultrasessantenni influirà per forza di cose sulla campagna vaccinale. Verosimilmente decine di migliaia di prenotazioni salteranno e dovranno essere riprogrammate con altri vaccini sempre che le dosi che arriveranno in Italia nelle prossime settimane siano sufficienti a coprire la domanda. Il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Pallù, rassicura tutti precisando che nei prossimi mesi ne arriveranno circa 17 milioni da Pfizer e tra le 7 e le 10 milioni di dosi da Johnson & Johnson. La cronaca arresti domiciliari per il sindaco di opera nel milanese Antonino Nocera una dirigente dell'ufficio tecnico del comune e tre imprenditori locali. Il primo cittadino avrebbe orientato l'assegnazione di lavori pubblici a favore di imprenditori conniventi ricevendo in cambio compensi. Inoltre nei primi mesi della pandemia ha distribuito a stretti congiunti a dipendenti comunali 2.000 mascherine chirurgiche che erano destinate a RSA e a farmacie. Colpo all'andrangheta e alla camorra da un'inchiesta su riciclaggio e frode fiscali legata alla vendita di prodotti petroliferi. 70 misure cautelari in esecuzione da parte della Guardia di Finanza e dei Carabinieri fra Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria nei confronti di esponenti dranghettisti e professionisti. Sequestrato un ingente patrimonio da un miliardo di euro indagini condotte e concluse dall'antimafia. Costruire un mondo più giusto e più sano questo è il tema della giornata mondiale della salute celebrata ieri tra le questioni più urgenti la prevenzione dei contagi e il brevetto libero sui vaccini per superare l'emergenza Covid. Sentiamo Pierluigi Vito. O i brevetti o la vita lo slogan della campagna per chiedere la liberalizzazione della produzione dei vaccini anti-Covid parla chiaro. Una lunga diretta via social network in concomitanza con la giornata mondiale della salute ha dato il via alla raccolta firme per rendere le cure antipandemiche un bene pubblico globale. Un'iniziativa che mira il risultato di un milione di adesioni in tutto il nostro continente per quella che non è una semplice petizione ma un'iniziativa di cittadinanza europea. Se l'obiettivo verrà raggiunto infatti la Commissione UE sarà tenuta a sottoporre al Parlamento e al Consiglio europeo la questione di liberalizzare i brevetti sui vaccini un passo cruciale verso l'immunità dell'intero pianeta. Non si tratta di fare beneficenza ai paesi in via di sviluppo o ai paesi più poveri. Si tratta di difendere noi stessi. Cioè agire perché tutti abbiano il vaccino vuol dire difendere noi stessi. Noi oggi sappiamo che siamo una sola umanità su questa terra. è intollerabile che esistano dei brevetti che si interpongono alla salvezza universale e al valore universale della vita. Chi volesse aderire all'iniziativa potrà farlo attraverso il sito internet noprofitonpandemic.eu seguendo l'invito dei tanti testimonial che vanno dal mondo della scienza a quello dello spettacolo. Servono un milione di firme da raccogliere entro il 20 novembre 2021. informati, firma anche tu. Come diceva Oscar Wilde se può fa. In chiusura una notizia dalla Francia. I produttori di vino hanno acceso delle enormi candele dei falò per cercare di proteggere i loro vigneti dalle forti gelate primaverili. Le temperature sono scese fino a meno 5 gradi durante la notte nelle regioni vinicole tra cui Chablis in Borgogna e Bordeaux. Questo potrebbe danneggiare i germogli già ben sviluppati. I viticoltori hanno anche installato delle balle di paglia fumanti e nebulizzato acqua sulle viti per formare una sorta di gabbia di ghiaccio che le protegge così dal gelo. Il TG2000 termina qui. Ora non perdetevi il meteo alla rubrica culturale terza pagina. Prossimo appuntamento con l'informazione e il TG Flash alle 15 e 15. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un sereno proseguimento di giornata. Arrivederci.